Pillole, pillole di contro disinformazione. Oggi con questa clip inauguro un nuovo ciclo di questo mio canale. Dopo aver dedicato i primi video alla disinformazione che si è sviluppata intorno alla strage alla stazione centrale di Bologna, inizierò ad affrontare la pessima informazione che da oltre 40 anni intossica anche il racconto della strage di Ustica del 27 giugno 1980, quando un 19 della Compagnia Italia, in volo da Bologna a Palermo, precipitò nel basso Martirreno, provocando la morte di 81 persone. Nelle prossime settimane pubblicherò alcuni video di approfondimento su questa tragica vicenda, mentre oggi questa breve clip prende spunto da un evento organizzato dall'Associazione Culturale I Love Emilia Romagna, programmato a Bologna per il prossimo 3 aprile 2022. Alle ore 10 di quella domenica mattina è prevista l'apertura, in esclusiva, del Museo per la Memoria di Ustica, in cui è esposto il relito del 19 ripescato al 95% in diverse campagne di recupero tra il 1987 e il 1992. A qualche decina di visitatori, si tratta infatti di un tour a pagamento e a numero chiuso, verranno narrati i misteri e gli interrogativi del volitavia 870 Bologna-Palermo, questo il titolo. In questa chiacchierata passerò in rassegna alcuni passaggi del volantino di invito e di presentazione di questo evento, che potete leggere integralmente seguendo il link in descrizione. Ovvero, commenterò i principali argomenti di richiamo in esso riportati, un vero e proprio concentrato di affermazioni che non trova alcun riscontro nelle sentenze dei vari gradi di giudizio penale, raccolte facilmente nella sterminata letteratura e pubblicistica disponibile. Vediamo i passaggi più rilevanti. Ad un certo punto si legge Il giudice Rosario Priore, concludendo la più lunga istruttoria della storia giudiziare del nostro paese, può sentenziare. L'incidente al 19 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento. Dunque c'era la guerra, quella notte del 27 giugno 1980, nel cielo di giustica e il 19 è stato abbattuto. Ora è vero che l'istruttore di Priore, subentrato a Vittorio Bucarelli il 27 luglio 1990, è durata ben nove anni. Nel vecchio ordinamento il giudice istruttore, al termine delle indagini, produceva o un'ordinanza di rinvio a giudizio e o una sentenza di non luogo a procedere. L'ordinanza sentenza che Priore depositò il 31 agosto 1999, costituì sia il rinvio a giudizio per alcuni ufficiali dell'Aeronautica Militare, ordinanza, sia l'archiviazione e assoluzione per altri, sentenza. L'accusa era di attentato contro gli organi costituzionali. L'impianto di Priore fu poi completamente demolito durante il dibattimento, in ben 272 udienze. Il processo penale si concluse in corte d'assise il 30 aprile 2004 con la soluzione piena, ed esattamente per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato, perché il fatto non sussiste, dei generali dell'Aeronautica Zeno Tascio e Corrado Melillo. Per altri due generali, Lamberto Bartalucci e Franco Ferri, si applicò la formula del non doversi procedere per prescrizione. Questi due ufficiali però rinunciarono alla prescrizione, ricorsero in appello e vennero anch'essi assolti con formula piena il 15 dicembre 2005. Sentenze confermate in via definitiva dalla Corte di Cassazione il 10 gennaio 2007. Il volantino dell'evento lascia viceversa intendere che alla base di queste assoluzioni ci sia una realtà ben diversa. Leggo testualmente. I vertici dell'aeronautica nell'aprile 2004 vengono assolti. Si riconosce comunque che i generali hanno omesso di riferire alle autorità politiche i risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino-Ciampino, conosciuti nell'immediatezza della tragedia, e hanno fornito informazioni errate alle autorità politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei militari nella caduta dell'aereo civile. Intanto però la maggioranza ha cancellato dal nostro ordinamento il reato di alto tradimento e quindi è abbastanza scontata la successiva assoluzione. Ovviamente ciò è totalmente infondato. Innanzitutto facciamo rilevare una prima palesi inesattezza. Per quanto riguarda la cancellazione del reato di alto tradimento, la legge di riforma è del marzo 2006, mentre la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello è del dicembre 2005. Ma come vedremo in altra sede, ai disinformatori di professione piace molto giocare con le macchine del tempo. Comunque tutti coloro i quali si accodano ligi alla linea tenuta dall'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, preseduta da Daria Bonfietti, ignorano o fanno finta di ignorare ciò che si trova scritto nella sentenza penale definitiva, per esempio a proposito della cosiddetta presunta battaglia aerea, la quale viene derubricata niente meno che a fantapolitica o romanzo frutto della stampa che si è sbizzarrita a trovare scenari di guerra calda o fredda. E ancora, il dibattimento ha d'altra parte dimostrato l'infondatezza dell'ipotesi del giudice istruttore sulla battaglia aerea. È priva di fondamento la notizia della presenza dell'intenso traffico americano. Si potrebbe proseguire a lungo riportando altre frasi di questo tenore contenute nella sentenza definitiva. In conclusione, se il processo penale ha stabilito, supportato da perizie tecniche svolte dai massimi esperti mondiali di incidentistica aerea, che il 19 non si è trovato in nessuno scenario di guerra, è evidente che i vertici dell'aeronautica non possono aver omesso alcunché. Ed in effetti la sentenza recita. La Corte, pertanto, sulla base delle considerazioni esposte, ritiene non sussistente l'addebito dell'omesso riferimento alle autorità politiche e a quella giudiziaria delle informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi navali statunitensi a partire dal 27 giugno 1980 e l'ipotesi di un'esplosione coinvolgente il velivolo. È inaccettabile che in uno stato di diritto si continui a riportare per gli ufficiali dell'aeronautica militare la formula, incriminati per alto tradimento, quando la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza numero 34 del 2007, ha stabilito che la formula perché il fatto non sussiste, con cui sono stati assolti i generali, costituisce un completo e pieno riconoscimento dell'innocenza degli imputati dai reati contestati, senza alcuna riserva o aspetto che possa in qualche modo mettere in dubbio una pronuncia assolutamente liberatoria. È erronea l'opinione che detta formula assolutoria in qualche modo richiami la soluzione per insufficienza di prove. Più chiaro di così. Continuiamo a scorrere il volantino e leggiamo che un primo collegio peritale, il collegio Blasi, nel 1989 giunse ad una precisa conclusione. Tutti gli elementi a disposizione fanno concordemente ritenere che l'incidente occorso al 19 sia stato causato da un missile esploso in prossimità della zona anteriore dell'aereo. Allo stato odierno mancano elementi sufficienti per precisarne il tipo, la provenienza e l'identità. Le forti pressioni fanno vacillare le iniziali certezze investigative, due periti su sei non sono più certi del missile. Ora, non furono le forti pressioni a convincere a ricredersi i periti Massimo Blasi e Raffaele Cerra, bensì le conclusioni dello studio, molto più approfondito, degli esperti Selenia, che presero in considerazione le effettive regolazioni e posizioni dei due radar di Fiumicino, evidenziando così sensibili errori nei risultati del precedente studio del 1980. Questo nuovo studio portava ad escludere che vi fosse stata la presenza di aerei estranei in prossimità del 19. Inoltre in quel momento, siamo nel 1989, era stato recuperato solo il 50% del relitto e si riteneva, erroneamente, che l'aereo, una volta interessato dall'esplosione, fosse caduto in mare sostanzialmente integro e completo di ali, coda, impennaggi e motori. Il recupero della quasi totalità dell'aereo nel 1992 e soprattutto la distribuzione dei rottami sul fondo del mare ha portato con certezza a ritenere che la destrutturazione dell'aereo sia avvenuta in quota, prescindendo sia provocale sia stata una bomba a bordo o un missile. Il relitto recuperato quasi completamente, al 95%, ha poi parlato e nei rottami non vi è assolutamente nessuna traccia di lesioni provocate da missili. Va qui ricordato che un successivo collegio peritale, il collegio Misiti, composto da 11 periti italiani, tedeschi, inglesi e svedesi, tra i maggiori esperti al mondo, hanno all'unanimità concordato sull'esplosione a bordo ed escluso il missile o la collisione o addirittura la quasi collisione con altro velivolo. Come si ricorda il volantino di presentazione, due periti del collegio Misiti, ossia il professor Giovanni Picardi e il professor Antonio Castellani, furono estromessi per indegnità. Motivo? Furono allontanati poiché si erano trovati a discutere di questioni tecniche con l'ingegnere Armando Bazzocchi e altri consulenti degli imputati, prevalentemente nel corso dei sopralluoghi al relitto. Sicuramente un'eventualità sconveniente ed impropria, ma nulla più. Altra fake, riportata sempre nel volantino, è quella relativa ai famosi nastri di Ciampino, quelli in cui tanti, negli anni successivi, hanno poi visto la presenza di una manovra d'attacco al 19. Ebbene, a Ciampino c'erano due radar, un vecchio Marconi e un più moderno Selenia. Solo il Marconi rilevò due echi primari, due plot, il meno 17 e il meno 12, rilevati ad altrettante rotazioni dell'antenna prima dell'ultima trasmissione del trasponder del 19, definito punto zero, corrispondenti rispettivamente a un minuto e mezzo e a un minuto e otto secondi prima dell'evento catastrofico. Questi due plot rilevati, a una distanza di 30 km dal 19, sono isolati e sono gli unici plot che, a detta dei fautori della battaglia aerea, potrebbero appartenere a uno o due caccia in avvicinamento. Peccato che non ci siano altri plot successivi a questi e soprattutto non si rilevi un tracciato che attesti l'avvicinamento né il disimpegno del presunto o dei presunti caccia dal luogo dell'incidente. Una domanda, perché il più moderno radar Selenia non rileva questi due famosi plot meno 17 e meno 12? Beh, fiorfiori di periti hanno ritenuto che quei due plot isolati siano riferibili semplicemente ad interferenze elettromagnetiche nella banda del vecchio radar Marconi. Ci sarebbero altri passaggi del volantino, magari meno rilevanti, che meriterebbero commenti, ma l'obbligo di mantenere intorno ai 10 minuti questa pillola mi impone di terminare qui. Vi invito a seguire il canale perché nelle prossime settimane, per quanto riguarda la strage di Ustica, entrerò molto di più nel dettaglio. In conclusione mi sento di affermare che, in base al volantino di presentazione dell'evento che abbiamo analizzato, domenica 3 aprile 2022, al Museo per la Memoria di Ustica, per i pochi eletti ammessi al tour guidato, andrà in onda l'ennesima rappresentazione truffaldina, che si somma alle innumerevoli altre che da oltre 40 anni tengono lontani dalla verità. Un saluto e un arrivederci alla prossima pillola di Controdisinformazione.